ERIFUSI ASMR Ciao a tutti abbiagimiusini Come state? Spero tutto bene Oggi andremo a mangiare Una cosa veloce 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 Il super biscottore 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 Eccoli qua I super biscottoni ragazzi Eccoli 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 qua Biscottoni 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 Bene ragazzi Iniziamo subito 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 Il profumo è buono Molto buono Adesso li assaggerò Per voi Biscottoni 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.